A noi le carriere di povertà non piacciono, a noi piacciono persone indipendenti, capaci di stare all'interno della società e di vivere in maniera coesa con tutti. È sempre più difficile uscire dalla povertà nel 2016 anche in terra aretina. La crisi morde il nostro territorio più di quello che realmente emerge. Ce lo racconta bene il decimo rapporto diocesano sulle povertà stilato dalla Caritas aretina in collaborazione con l'associazione SICEM. Nel 2015 rispetto al 2014 abbiamo registrato un numero inferiore di casi, siamo a 2.120 registrazioni rispetto a 2.335 del 2014 ma lo leghiamo anche al fatto che molte famiglie straniere hanno letteralmente lasciato il territorio aretino italiano. Siamo passati da una società e da una registrazione dove il singolo soggetto bisognoso e spesso legato a problematiche come la tossicodipendenza, l'alcolismo o altre cose, veniva prevalentemente ai nostri servizi a un 70% delle nostre registrazioni che riguardano le famiglie. Quindi una povertà relativa sempre più a macchia di leopardo che tocca tutte le categorie sociali, che tocca tutte le età e che in qualche maniera nel 2015 ha riguardato più gli italiani che gli stranieri. Una fotografia della società che chi amministra la cosa pubblica dovrà avere bene in testa. Sono uomini, donne, padri e madri di famiglie, anziani che fanno fatica anche a rompere il muro della vergogna e rivolgersi ai servizi offerti dalla rete sociale. Si vergognano, magari a volte, molto spesso succede che la persona si rivolge ad una parrocchia o ad un paese diverso proprio per evitare di andare incontro alle persone che comunque già conosce. L'emergenza abitativa è la più importante. Dal 2012 in Italia si è registrato un incremento della condizione di povertà delle famiglie che l'ha portata ad essere uno degli stati europei con il più alto rischio di povertà abitativa. Nel 2014 Arezzo è tra le province con la più alta incidenza dei provvedimenti per morosità che hanno rappresentato il 99,2% del totale. I servizi principali che si rivolgono alle famiglie sono quelli attivi all'interno del centro di ascolto diocesano che appunto riguardano il sostegno per affitto, bollette e spese scolastiche o comunque supporto alle spese familiari. I buoni spesa, quindi un sostegno da un punto di vista alimentare. E poi negli ultimi due anni è stato attivato anche un servizio di prestito sociale finanziato dalla regione toscana. La maggior parte di questi interventi abbiamo registrato che quasi appunto la metà di essi sono andati a sostenere le famiglie per bisogni legati all'abitazione, quindi affitto, bollette o comunque indebitamenti accumulati nel tempo.